benvenuti o bentornati sul mio canale di warhammer 40.000 io sono nemo spero abbiate passato delle buone festività natalizie quest'oggi per la rubrica nemo dice cose andiamo a fare un piccolo riassunto di quello che probabilmente ci aspetterà in termini di uscite nei primi mesi del nuovo anno in particolare andremo a vedere parleremo di nuovo del chapter appur approved di di nuova uscita stiamo aspettando sicuramente i modelli della dell'astra militarum altrettanto stiamo aspettando penso da decenni i modelli e un codex dedicato e word leader sicuramente la parte narrativa di arcs of woman che prospetta novità veramente molto interessanti in termini storia è altrettanto apprezzabile e poi probabilmente se i tempi di uscita canonici verranno rispettati verso giugno massimo luglio dovrebbe uscire la nuova edizione di gioco andiamo subito a parlare del chapter approved di cui ho parlato in realtà in maniera più estesa in un video dedicato e vi linko qui sopra il chapter approved ci dà sei mesi di gioco con un altro equilibrio in termini di regole in termini di composizione armata in termini di gioco giocato e sicuramente si andranno ad accompagnare un data slate a un monitor room uno per le restrizioni o i bonus allarmate e l'altro per il cambio in punteggi dei codex stessi semestre di gioco che ovviamente ci accompagnerà da qui probabilmente all'uscita della nuova edizione fra l'altro ho notato che il manualetto del di questo chapter sembrerebbe brossurato e quindi non con la copertina morbida probabilmente vuole essere un volume un po più di prestigio un po più ben confezionato rispetto al solito non so se nel formato grande non penso però diciamo che è stata data una un'importanza maggiore all'uscita in sé del del manualetto di gioco dell'aggiornamento del manuale di gioco altro tema caldo probabilmente visto l'uscita nelle prime settimane di gennaio non la prima sicuramente ma probabilmente nelle prime settimane di gennaio il resto dei modelli lastra militarum così come il codex a sé stante probabilmente li riusciremo a vedere nel mese di gennaio o all'inizio di febbraio non credo probabilmente tutti i modelli mancanti la nuova cavalleria il nuovo carro la nuova linea egida tutta una serie di modelli nuovi a disposizione per l'acquisto singolo così come il codex vi dicevo probabilmente ricadranno nel nel mese di gennaio primi di febbraio attesissimo da decenni come vi dicevo non tanto per angron quanto per i modelli che erano veramente antichissimi in termini di stampa il codex word iter che probabilmente non so se uscirà subito a febbraio fine febbraio o al limite uscirà nella scatola diciamo di presentazione classiche scatole esercito contro esercito uscirà prima la scatola con il codex dedicato e poi eventualmente il il resto dei pezzi in acquisto singolo o semplicemente visto che non abbiamo tantissime uscite in realtà non troppo poche del codex magari lo fanno uscire in maniera diretta in realtà io mi aspetto la maggior parte del materiale per il mese di marzo e vi spiego perché poi parlando dell'argomento successivo vero arcso fomen arcso fomen come vedete almeno i primi tre libri dovrebbero essere quattro se non addirittura cinque da quel che ho capito ognuno riguarda di un argomento specifico di questa campagna di questa apocalisse annunciata abbastanza importante in termini narrativi all'interno del gioco e come vedete i primi libri ognuno è dedicato a un personaggio differente se è vero che la guardia imperiale uscirà per gennaio il libro di abaddon a quel punto me l'aspetto all'inizio di febbraio o comunque a gennaio ma cosa che mi fa slittare eventualmente l'uscita dei world eater non proprio per febbraio ma più probabilmente secondo me per marzo dove uscirà anche axofomen dedicato ad angron molto importante in termini di discussione anche questo ultimo dei tre presentati l'uscita del del libro dedicato al background alla storia di vashtor il nuovo semi dio della conoscenza delle arti meccaniche o della conoscenza tecnologica in genere da cui una serie di spoiler non voluti analizzati insieme a degli amici del canale di dell'astropate di cui ringrazio ovviamente le live e l'estrema conoscenza del del background della storia in sé ci ha fatto scoprire ovviamente la presenza della miniatura di azrael miniatura che poi è stata ovviamente resa pubblica anche da gv stessa esattamente al giorno di natale tre libri molto importanti in termini di storia se vogliamo seguire la logica dei mesi rimanenti da qui all'uscita all'uscita della prossima edizione o ipotetica uscita della prossima edizione probabilmente i quattro libri vanno a coprire febbraio marzo aprile e maggio quindi diciamo i mesi prima di giugno o addirittura gennaio febbraio aprile marzo scusatemi gennaio febbraio marzo aprile e maggio e quindi poi a giugno avere l'uscita aggiuntiva questo se i libri sono cinque quattro in realtà il quarto mi sembra sia stato dato per certo io avevo capito non mi ricordo leggendo su quale reddit su quale forum su quale spoiler che i libri dovrebbero essere in realtà cinque non mi ricordo il quarto dovrebbe essere dedicato a una razza xenos in particolare dovrebbe essere dedicato agli eldar io in realtà immaginavo fosse più facilmente dedicato e tiranidi ma è vero che tiranidi poi li ritroveremo nella scatola introduttiva se anche questo è vero come rumors dell'uscita della decima edizione quindi anche qui in termini di miniature di pezzi e di novità uscite c'è sicuramente tanto che bolle in pentola molte novità sicuramente interessanti in particolare questi libri di questa diciamo serie di libri probabilmente a mio modo di vedere per gli argomenti trattati andranno a incidere in maniera decisamente impattante il resto della narrazione il resto del gioco della parte narrativa vera e propria di warhammer 40.000 cosa che probabilmente come vi stavo dicendo impatteranno poi anche nel gioco vero e proprio in termini sia di miniature e di cambiamenti probabilmente importanti per diversi eserciti questa è una mia deduzione poi se avrò informazioni maggiori in merito o se ci saranno spoiler maggiori in merito andremo a vedere cosa e come cambierà a tempo debito ultima ma non ultima notizia ovviamente è l'uscita della decima edizione quindi abbiamo coperti questi cinque mesi di uscite verso giugno verosimilmente come da diverse edizioni a questa parte uscirà la nuova edizione di gioco che cosa ci sarà nella nuova edizione di gioco di diverso boh perché gv è riuscita sicuramente a prima con l'ottava e poi con la nonna a stupirci in termini di novità e in termini di come si dice approccio al gioco di facilità con l'ottava edizione rispetto al alle edizioni precedenti e di profondità strategica di gioco poi con la nuova edizione quindi che cosa ci aspetterà in termini di reali cambiamenti non ve lo so dire le cose che potrebbero cambiare sono diverse ma sono per il momento tutte del wish list più che dei e dei spoiler o delle sicurezze o delle cose logicamente che ci possiamo aspettare l'unica forse che è verosimile potremmo aspettare una semplificazione dell'entry level di gioco ovvero una cosa che porterà il gioco ad essere facilmente approcciabile così come al momento è ad esempio edge of sigma il gioco di edge of sigma per evidenti quantità di miniature e evidenti differenze di regole diciamo che è abbastanza più semplice in termini di approccio in termini di composizione di lista in termini di gioco a sé stante essendo però un gioco un po più entry level di suo nel senso nasce proprio edge of sigma come logica di gioco un po più user friendly diciamo un po più semplice per il mercato a cui si rivolge rimarrà probabilmente molto 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 più semplice nell'approccio è anche vero che al momento i fanboy diciamo l'esercito copertina del 40.000 è uno di quelli che soffre sicuramente di più di molte altre fazioni di complessità di composizione d'armata e probabilmente proprio per via del background presentato in arcs of omen o anche per dirla in maniera del tutto brutale avrà una buona semplificazione in termini di pezzi e di opzioni giocabili all'interno delle unità così da essere più facilmente apprezzabile dai nuovi giocatori o comunque dalle persone che si approcciano di nuovo al gioco e vogliono delle soluzioni un po più diciamo semplici di entrata una cosa su tutte mentre sempre per fare l'esempio in edge of sigma voi potete molto probabilmente comporre la maggior parte degli eserciti anche diciamo competitivamente giocabili o comunque facilmente giocabili semplicemente acquistando gli starter diciamo presentati da gv stessa nel 40.000 questa cosa non è proprio così per tutta una serie di motivi uno su tutti e che ovviamente i codex del 40 mila hanno una quantità di unità pezzi e diciamo logiche di gioco di composizione armata molto molto più complesse di house ovviamente questo però giustamente come ho riportato in discorsi con amici e conoscenti su diverse chat di gioco rimane ovviamente un limite per il giocatore estemporaneo o per o comunque per semplicità di composizione analista in vista poi del gioco giocato ovviamente il gioco non è pensato solo ed esclusivamente per i giocatori competitivi è ovvio che una semplificazione da questo punto di vista io me l'aspetto probabilmente verrà attuata in qualche maniera vedremo da qui a giugno visto che abbiamo comunque sei mesi buoni di giochi con con un chapter che si prospetta interessante per diverse novità e cose che mette in ballo alcune delle quali fra cui non ultima la micro tabella delle alleanze così come il distaccamento a zero punti comando di costo mette in ballo probabilmente come vi dicevo per sperimentare poi i nuovi equilibri che verranno probabilmente presentati nel nel regolamento base e successivamente nei chapter nei chapter correlati del gioco della decima edizione in poi spero di avervi fatto un buon riepilogo di non avervi ucciso le orecchie con le mie farneticazioni ci vediamo al prossimo video vi ringrazio per le iscrizioni per i commenti sempre in crescita ciao ciao a tutti quanti e buon fine d'anno